Lei verrebbe volentieri a giocare in Italia? Sì, per me sì. Io chiedo giocare in Italia perché sempre sognato di giocare in Italia. Verrebbe volentieri perché ha sempre sognato di giocare in Italia. Elsa Suarez è un nome famosissimo in tutto il mondo e soprattutto in Brasile dove è nata e dove è una delle cantanti più popolari. È venuta con Garrincha. Grazie. È un nome famosissimo agli appassionati di calcio. Garrincha, famosissima ala che ha lasciato il calcio da un po' di tempo. No, non l'hai lasciato. Non l'hai lasciato. Quando riprenderai a giocare? Sì, dopo la Coppa. Dopo la Coppa.